Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo Alla Sua amata figlia Luzza de Maria 3 ottobre 2012 Amato popolo mio, amato popolo mio, vi benedico. Il mio amore e la mia misericordia sono di fronte a ognuno di voi. Avanti miei fedeli, non fermatevi. Non fermatevi, perché le devastazioni di quest'istante servono affinché dimostriate il vostro amore e la vostra fede verso la casa di mio padre. In ogni epoca ho offerto la mia misericordia e il mio amore all'umanità. Perché dovrebbe essere diverso in questo momento decisivo? Com'è possibile, che alcuni desiderino limitare il mio amore e la mia misericordia? No, nessuno mi limiterà. Così come ho protetto il mio popolo in passato, allo stesso modo continuo e continuerò a proteggerlo. Il Verbo Divino è giunto per mezzo dei profeti e ora, in questo momento, rendo esplicita e chiara la mia parola di fronti a un'umanità ostinata che non vuole essere salvata. Non limiterò la mia misericordia, per quanto grandi siano le offese dell'uomo nei miei confronti, ma la mia misericordia raggiungerà i miei fedeli quando essi si apriranno a essa e la invocheranno. Io offro e l'uomo dovrebbe cercarmi, deve essere pronto a ricevermi. Sono amore, misericordia e giustizia allo stesso tempo, non sarai un buon amministratore se colmassi di misericordia tutti in ugual misura, anche quando avete bisogno di severità. I miei fedeli combattenti devono essere sicuri del sostegno della mia casa. Coloro che si pentono con cuore contrito e umiliato, possono essere sicuri di ricevere l'aiuto dalla mia casa. Ah, umanità. Sono così tanti i deboli, sono così tanti quelli che annunciano un futuro pieno di amore e di pace, impedendo ai miei figli di vedere la verità. I miei avvertimenti e le mie chiamate vengono smentiti affinché l'uomo non veda la precisione degli eventi, non rinnovi la propria coscienza e non si mantenga a mia disposizione. Guai a coloro che, conoscendo la mia parola, la rinegano. Guai a coloro che, sapendo che la misericordia è accompagnata della giustizia divina, la rifiutano. Che ne sarebbe stato del mio popolo nella storia passata se non fosse aggiunta su di esso la giustizia divina? Nessuno di voi esisterebbe in questo momento, perché se il peccato non fosse stato fermato al momento giusto, tutto il genere umano sarebbe perito senza lasciare nessuna possibilità di ricominciare la storia a questa generazione, perché anche i giusti sarebbero caduti. Invito i miei fedeli a sollevarsi con forza, a superare gli ostacoli, a guardare verso di me, che sono onnipotente, e a portare con amore la croce di ogni giorno. Ho bisogno di creature di fede, creature decise, creature disposte a lotare con l'arma dell'amore e della fede. Quanti eventi si abbatteranno su questa generazione? Guai a coloro che li hanno negati. Si lamenteranno e si addoloreranno nello spirito, perché avranno commesso un grande peccato, ossia sminuire la mia giustizia divina di fronte all'umanità, affinché la dissolutezza si impossessasse di quel santo resto, che ancora sopravvive in mezzo a questo mare in tempesta, che è l'era moderna, che rapidamente trascina via i deboli, quelli che non mi conoscono, che non mi cercano, che mi disprezzano. Ti invito, popolo mio, a parlare per chi tace. Presto avrà luogo la mia seconda venuta, con potenza, gloria e maesta. Verro accompagnato da tutti i cori degli angeli, dei vostri fratelli e compagni di viaggio. Al di sopra di ogni potere, trono o dominazione verro con il mio potere per non passare inosservato. Non ci sarà alcuna creatura, che non si accorgerà della mia discesa con tutto il mio potere. La terra tremerà, l'aria vibrerà, tutto il creato si sottometterà a me, perché l'eree della gloria aggiungerà per il suo popolo. Ma prima di questo, di questa mia venuta, ogni uomo dovrà scrottare molto intensamente dentro di sé, vedere il proprio spirito e come da esso emani un fiume, che passa davanti alla coscienza di ognuno, mostrando, specchiati nelle sue acque, tutti gli eventi della sua vita. Saranno istanti forti ma necessari, affinché vi prepariate adeguatamente, affinché vi rendiate consapevoli delle offese commesse verso di me e verso mia madre eppure alcuni, dal cuore duro e corrotto, saranno totalmente presi e attratti dalla vita mondana e peccaminosa e diranno che questo annuncio è stato un'invenzione dell'uomo, lo negheranno e si abbandoneranno a una vita sontuosa di peccato. Popolo mio, sottopongo al crogiolo i miei figli non perché non li amo ma, piuttosto, perché è così grande la mia misericordia verso di essi, che li voglio vicino a me, e vicino a me vi sono le anime pure, quelle che non temono di affermare la verità, quelle anime coraggiose, che mettono in pratica il mio amore verso il prossimo, quelle che annientano l'ego umano finché il mio spirito si elevi con forze in esse. Vi amo, popolo mio, quanto vi amo, il mio sguardo non si allontana mai un momento da voi. Non temete, non ho mai abbandonato il mio gregge, non sarà diverso in questo momento critico e urgente per questa generazione. Vi invito a pregare per il Medio Oriente, la scintilla della guerra si accenderà. Pregate i miei amati, pregate per il mio amato popolo messicano. Pregate, pregate per il Cile. Pregate per voi stessi, per non vacillare nella fede. Vi benedico, il mio amore dimora in voi. Il vostro Gesù.